Maurizio Fugatti, il governo ha deciso di sospendere l'Imu fino a ottobre. Lei come giudica questa decisione? Noi dovremmo essere felici del fatto che l'IVA non aumenta per tre mesi, però purtroppo qui c'è la sorpresa, perché per coprire il mancato aumento dell'IVA in termini finanziari vanno ad aumentare l'acconto IRPEF. Quindi i lavoratori autonomi, le imprese, pagheranno di più di acconto IRPEF e IRES nei prossimi mesi e questo per andare a coprire il mancato aumento dell'IVA. Quindi si toglie una tassa per mettere un'altra tassa. Noi dicevamo di non aumentare l'IVA andando a tagliare le spese, perché le spese andavano tagliate. Invece in questo modo è un cane che si morde la coda e siamo stupiti che il PDL, che è il partito che dovrebbe fare la battaglia contro le tasse, oggi va ad approvare una operazione di questo tipo. Brunetta, il capogruppo del PDL, che ha sempre detto che bisogna diminuire le tasse, oggi le tasse le aumenta, questo è ufficiale e questo credo che non sia accettabile né del PDL né da parte dei loro elettori.